Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e oggi come vedete siamo su Polseni, simulatore, la pulizia delle piscine, in pratica. Niente ringrazio ovviamente gli sviluppatori che mi hanno dato la key di gioco, grazie mille, e niente andiamo a provarselo gioco. Allora, nuovo gioco, si si, perché ho provato la demo, allora per far commissione hai bisogno di attrezzature speciali, acquista le cose necessarie nel negozio, ok andiamo al negozio, ok, allora acquisto un'idropulitrice, un'idropulitrice e acquistiamo, pastille per cloro, ok questo qua e acquistiamo, ok, inventario andiamo qua per provare tutti i nostri prodotti posseduti, ovviamente c'è il cloro, idropulitrice la macchina e anche la spugna, ah possiamo spendere, ok, sei bravo a tornare alla commissione, ok, seleziona un'email, ok, seleziona un'email, termina ok, accettiamo, questo qua è la demo che ovviamente è scaricabile per tutti, gratis, la demo su steam, allora, vorrei avere informazioni sui servizi della vostra azienda, azienda, aprire le porte per la mia piscina è ancora sporca, ho bisogno di una completa rimozione delle alghe e disinfettazione dell'acqua col cloro, ovviamente, le pastiglie di cloro, ovviamente, il galleggiante e il sistema di controllo delle acque sono nel mio capando, vicino alla piscina, può essere un po' di tempo libero, vorrei che facessi andare una piccola, con un po' di tempo liberi, sono in grado di fare delle papparelle di gomma, ah faccola, tira le papparelle di gomma, ho bisogno di guardare il tonno, ok, tab per aprire l'affare, ok, e va benissimo, cosa vuol fare il papparelle, scusa water, spazio, premiamo shift, ok, shift per andare su e giù, usa per i tregi riluciti, ok, allora, vediamo e, e scarichiamo tutta l'acqua, come ho detto, si scarica l'acqua, ok, adesso bisogna andare la e andare a togliere la spugna del furgone, come scrive, apriamo e, apriamo la spugna, le furgone, le attrezzature bisogna scrivere, ok, e qua, se vogliamo, come la spugna, tutto questo che, come dei poveraci, spugniamo, spugniamo tutto, come dei poveraci, spugniamo, spugniamo tutto, ah, che bella spugneggiatura, cosa da spugneggiare? Allora, possiamo usare l'idropulitrice, l'idropulitrice, eccoci qua, che bella, oh, che bella, la Q abbiamo anche, ah, non ho i potenziamenti, ok, come se la, la Q abbiamo tutti i potenziamenti per, o per l'idropulitrice, o per altri vari strumenti, che, che avremo più avanti, ovviamente, non sono i stessi di Power Watch, Simulator, non dovrebbero essere gli stessi sviluppatori, comunque mi ricorda quello, l'idropulitrice, anche se l'ho portato sul canale, in quel gioco, però l'ho giocato per fatti miei, se lo volete, ovviamente, dite l'uomo in descrizione, che serve l'apporto, la papperella, vieni qua, pappe, mi metto guai, ok, ok, il bordo è andato, quello è andato anche, questo è dove sono andato a Spirapossi, per, per mettere la, come si chiama, l'acqua, non c'è, siamo al 30%, c'è un aereo? ok, ho pulito la piscina, ho pulito la piscina, ok, andiamo a poggiare la nostra idropulitrice, che non c'è più, adesso andiamo, a papperella, prendiamo, a papperella, a papperella, l'ho visto, eh, guaha, ora vedo questo guai, opzionabile, andato a papperella qua, vamo, adesso, riempiamo la piscina, come vedete, sta riempita la piscina, qua, questo guai, qua, andiamo a prendere il nostro, ok, facciamo quello che siamo pronti, vedete che si, riempie la piscina, ovviamente, questo pezzo, questo pezzo, del gioco, l'ho fatto già, perché, c'è la, la, dove è? c'è la demo, ok, questo, come si chiamano, questa, missione, dai, si può dire così, è, nella demo, ed è, c'è solo questa, missione, che fa, vada, come pulisce, come si pulisce la, l'idropurizia, aspettiamo che si riempia tutta, lì, dovevo quasi esserci, ok, riempica le giante, allora facciamo così, no, tasto a sinistro, tasto a sinistro, tasto a sinistro, ok, adesso questo lasciamo l'altro, adesso ci mettiamo qua, e lo posizioniamo qua, ah, ah, ecco, adesso devo riportare i nostri oggetti, al furgone, ok, abbiamo finito, adesso, se vogliamo, possiamo fare l'altro, allora, andiamo su, tab, completare, ah no, un padre, alla ricerca, di una perdita, inaspettata, paparelli di gomma, sono state, avvistare il quartiere, blablabla, si, cavolate, ok, vabbè, questa qua abbiamo, la prima parte, allora, questo qua è un arbo, per conto del terror pa, paradise, eh, cerco un servizio professionale, di pulizia dalla nostra piscina, che posiziona i nostri problemi dei, piragna, uno dei nostri clienti, ha, accidentemente, lasciato entrare, lasciato entrare, e questi, questi pesci, arrabbiati nella nostra piscina, abbiamo dovuto evacuare l'intera area, se potesse fare, proviamo, allora, abbiamo dovuto fare, filtro e, guadino, ok, andiamo nel negozio, andiamo, prendiamo un filtro, e prendiamo il guadino, chiedo, questo qua, guadino, ok, buono, email, accettiamo, 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 allora, ok, eccoci va, guardate, ci vede, gli, animalletti, tanto desiderati, allora, vieni qua, pesce, uno, e, do cazzo, mettiamo qua, va, va, stardo, va, Fregato, ecco l'ho, ok Ciao pesciolino, adesso Inca uno Ok, non è caduto dentro Allora, svuota la piscina Allora Adesso va per svuotare la piscina Scusate 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Per uscire? Allora, posso altra cosa Però dove posso Dove c'è il locale? E che numero è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 5, 5, 3, 2, ok 5, 5, 3, 2 5, 5, 3, 2 5, 5, 3, 2 Oh, sì Oh, sì Allora Allora Sempre 5, 5, 3, 2 Si sta scaricando l'acqua come vedete Che c'ho Grazie Ok Pulisciamo la piscina Ok Allora 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 Ci viene la nostra bella Pulisci E Cominciamo a Qui c'è Qui c'è Allora 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 Vabbè ragazzi, noi continueremo nel prossimo gameplay, sempre qua con il vostro Volpe e ciao a tutti e alla prossima, ciao!